buongiorno c'è un gesto molto eloquente che bisogna fare in certi casi bisogna avere l'umiltà di farlo è questo la resa la resa io mi arrendo perché nonostante abbia spiegato un miliardo di volte uno che non intendo difendere allegro in questo momento due che ad anni ha sbagliato nel modo di comportarsi e ho detto che è come se si dicesse che lui non è capace di fare il commentatore ma devo leggere dici che ad anni non è capace di fare il commentatore devo leggere continua a difendere allegri allora io di fronte a certa ignoranza proprio ignoranza volontaria ignoranza volontaria cioè bisogna per forza sostenere una tesi perché se non fosse ignoranza volontaria fosse veramente incapacità di capire allora mi preoccuperai seriamente di fronte a tanta ignoranza volontaria mi arrendo mi arrendo fortunatamente mi sto riferendo a pochi a pochi mi piacerebbe che tutti volessero capire non capito volessero capire quello che voglio dire ma allora li prendo come attacchi personali a questo punto li prendo come attacchi personali cioè se se si vuole continuamente girare attorno a sta roba facendo finta di non capire e dicendovi che sto fatto penso che facciate finta e non capire ancora vi ritengo intelligenti badate bene perché uno non capisce dice vabbè non capisce non è colpa sua non è intelligente ma finge di non capire quindi è peggio peggio ok io davanti a questi pochi e ripeto e sto spiegando ancora troppo del mio tempo alzo le mani però continuo continuo perché non è che rinuncio a dire quello che penso continuo tranquillamente allora se la situazione continua così la juve può recuperare sei giocatori sei giocatori rispetto a monza per la partita del 2 ottobre contro bologna adesso naturalmente me ne dimenticherò qualcuno perché poi l'età avanza e quindi è quella che è scesi in porta poi c'è alexandro recuperabile in difesa locatelli rabbiò e poi i due scuadificati quadrado e mili quindi diciamo che a livello di scelte sicuramente la situazione migliora da questo punto di vista migliora c'è da capire come sta miretti perché non è che le cose devono andare bene naturalmente cioè quando tu vai in nazionale qualche cosa ti torna e quindi miretti ha preso una botta alla caviglia destra se non vado errato e quindi sarà da valutare c'è ancora una settimana più o meno per arrivare anzi una settimana esatta per arrivare a quella partita però dipende dal tipo di botta che è stata presa se è una botta normale dovrebbe farcela altrimenti per precauzione resterà fuori contro il bologna poi c'è il maccabi poi c'è il milan c'è ancora il maccabi c'è il derby ce ne sono tante di partite però cerchiamo di essere un attimo ottimisti e dire che a disposizione ci saranno sei giocatori in più poi va da sé va da sé che non conta tanto il numero di giocatori a disposizione o meglio si conta perché puoi fare più cambi eccetera ma se nessuno di questi sei che dovesse rientrare ci metterà la testa adeguatamente allora è come se non è come se non ci fossero ed è come non avere nemmeno gli altri cioè se viene ripetuta la stessa prestazione a livello mentale che si è vista perché tu a Monza potevi fare tutti i cambi che volevi tu potevi avere una seconda squadra da mandare in campo ma se anche la seconda squadra ragionava come la prima o meglio non ragionava o meglio non c'era mentalmente tu col Monza ne beccavi due tre ok quindi dipende sempre dall'atteggiamento dipende sempre dall'atteggiamento ecco perché è fondamentale è stata o diventerà lo è stata in parte questa prima settimana in parte perché naturalmente ha lavorato a ranghi molto ridotti però su questi tre alexandro locatelli e rabbiò io credo che con questi ci sia stato quantomeno un chiarimento ok man mano che rientrano gli altri è chiaro che ci saranno altri chiarimenti perché e questo non mi stufo di dirlo la situazione attuale è questa qua è questa qua ho letto un'altra roba che che no perché poi lo devo vabbè prendiamola come un'occasione per spiegare mi sono sentito scrivere ho letto con 254 milioni di debiti anche se fai un debito di altri 4 milioni per prendere un altro allenatore cosa cambia ma ragionate o no ma ragionate o no per cambiare allenatore devi esonerare allegri e desonerare allegri significa continuare a pagare lo stipendio fino al 2025 ma c'è sono 7 più 2 di bonus avete letto chi mi scrive queste cose qua a letto come stanno le cose o è rimasto a dormire pagare allegri da qui alla fine del contratto lui e lo sta vuol dire 80 milioni lordi è chiaro che se si mettesse lui sarebbe tutto un altro discorso no puoi permetterti eventualmente altri 3 4 milioni per appesantire il debito ma c'è io veramente a volte non lo so non lo so c'è vabbè vedo che ti ha vi ha affassionato anche il discorso della possibile svolta tattica e beh certo anche perché io penso che in un momento come questo qua oltre al discorso relativo a lavorare sulla testa delle persone uno stimolo una situazione nuova e quindi un nuovo assetto tattico possa come dire possa giovare possa giovare uno si sente affibbiare magari dei compiti nuovi tutta una squadra trova prova prova trovare dei movimenti diversi secondo me funge da stimolo lo era stato in passato abbinare il discorso tattico ad un discorso mentale può essere un tentativo apprezzabile stiamo parlando di tentativi perché adesso la juve è fatta di tentativi lo capito no di tentativi cioè deve per forza tirarsi fuori da sta roba deve tirarsi fuori e in questo momento lo deve fare con questo staff tecnico che piaccia o non piaccia a me dispiace qua chiudo perché poi lo so che mi dite che io uso il tubo per chiarire le cose per parlare personalmente ma sono io che parlo e interagisco con voi e cerco di farmi capire cerco di essere chiaro ok non faccio nessuna reprimenda ci mancherebbe non sono nessuno io per fare reprimende eccetera però visto che siamo qua a parlare parliamo per il momento finito iscrivetevi al canale ci vediamo questa sera ciao ragazzi